Ehi, clicca il link sotto in descrizione, potrei essere tu ad aggiudicarti il buono Amazon da 5€ Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video Oggi vi faccio vedere un trucchetto per ricevere 1250€ con la spesa solo di 1€ Tutto questo è spendibile tramite il sito Amazon.com e quindi ragazzi è 100% legale Vediamo tutto questo dopo la sigla Allora ragazzi dovete vedere assolutamente questo video fino alla fine Così riuscirete a capire tutti i passaggi da fare senza perdervene neanche uno Allora innanzitutto per ricevere questi 1250€ abbiamo bisogno di un pochino di tempo Fino a dicembre 2018 Allora in poche parole, in cosa consiste questo trucco? Ci basterà scaricare l'applicazione Hype che troverete il link sotto in descrizione Che vi permetterà di ricevere al suo interno tramite appunto il mio link 10€ E per ricevere questi 10€ l'unica spesa che appunto avrete è pagare 1€ Quindi dovete fare una ricarica di 1€ in questa carta e verranno automaticamente addebitati 10€ Una volta che vi saranno addebitati questi soldi potrete invitare voi altre persone E appunto ricevere buoni Amazon in cambio Se riuscirete appunto ad invitare ben 100 amici o persone in generale Poi tramite passaparola eccetera Riuscirete comunque a raggiungere una grossa somma E automaticamente arrivati alle 100 persone In automatico Hype vi invierà un link nella mail per riscattare altri 250€ Tutti questi soldi saranno spendibili su Amazon Tranne i 10€ e quella del mio invito Quelli saranno spendibili dappertutto Ragazzi questa carta al suo interno ha un plafond di 2500€ In poche parole è il limite massimo di ricarica annuale Quindi ragazzi diciamo che con questi buoni Amazon rientriamo perfettamente Ragazzi io vi invito veramente a usare il mio link Così diciamo i primi 10€ ve li do io e sono completamente gratuiti Ovviamente ok dovrete fare una ricarica minima di 1€ E se voi fate questa ricarica nella carta ad esempio vi ritroverete con 11€ Spendibili veramente dappertutto perché è una vera e propria carta prepagata Io ad esempio sul mio iPhone Cioè perché io la utilizzo con l'iPhone Mi capita veramente molto spesso di utilizzare Apple Pay Che praticamente è un servizio che mette a disposizione Apple Per pagare direttamente appunto con l'iPhone E oltre a questo io la utilizzo proprio come un vero conto corrente personale Lo uso solo io ed è veramente comodo Ad esempio capita molto spesso di uscire e di andare da qualche parte E mi basta semplicemente portare il mio telefono dietro Così da avere appunto i soldi sempre a portata di mano A portata di iPhone Ammetto ragazzi che invitandovi da quel link Anche a me darete 10€ Però comunque ragazzi io vi sto invitando anche a usare voi questa funzione Così da riuscire a comprare veramente su Amazon cose a prezzi o minori o nulli Ad esempio io voglio comprare un nuovo monitor per lo studio che creerò successivamente E grazie ai buoni che sto accumulando lo comprerò gratis Farò anche un video a riguardo Ragazzi io direi che il video può finire qui E' molto importante che clicchiate il link sotto nella descrizione per l'invito di Hype Che vi darà 10€ ripeto E ragazzi noi ci vediamo in un prossimo video Iscrivetevi e bella Ciao 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 Ciao